La sinergia tra tecnologia e fattore umano ha consentito pochi giorni fa di risolvere immediatamente e brillantemente un caso di cronaca, consentendo ovviamente di assicurare alla giustizia gli autori del reato e soprattutto la restituzione del mal tolto alla signora. L'impianto di videosorveglianza ad alta risoluzione, la competenza del personale di sicurezza presente sul territorio ha consentito l'identificazione inequivoca di questi due soggetti. Siamo estremamente contenti e soddisfatti. Riteniamo opportuno che tale impianto sia implementato, magari prevedendo l'installazione di telecamere in altre zone del territorio, dove purtroppo si verificano anche nottetempo ad opera spesso di ignoti, anzi quasi sempre, sversamenti di rifiuti nocivi, pericolosi o ingombranti, che rendono sicuramente il nostro territorio non sicuro da questo punto di vista. Quindi credo sia opportuno prendere decisioni in tal senso. Poi un amico in ultima analisi mi chiedeva se vale la pena rinunciare a una piccola parte di privacy pur di vivere in un territorio più sicuro. Beh, io su questo non ho dubbi, vale sicuramente la pena rinunciare a una parte di privacy. Il nostro è uno dei territori più belli del lago nocerino seranese, che conta due parchi urbani, tante zone di aggregazione, va salvaguardato. Grazie. 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 Grazie.